Ciao a tutti ragazzi, io sono Virgins di Gaming Tonight e benvenuti nel terzo appuntamento di Football History Bene ragazzi, oggi parliamo di un idolo che tutti conosceranno in Italia, almeno o dai, no in tutto il mondo non è impossibile non conoscerlo quindi ragazzi, se volete vedere altri Football History lasciate un bel mi piace per farmelo capire e scrivetevi nei commenti chi deve essere il prossimo soggetto del Football History Sigla ragazzi Oggi parliamo di Simone Padoin Simone Padoin è il più grande calciatore della storia del calcio mondiale è diventato celebre grazie alla sua incredibile capacità nel far vincere numerosi trofei alla propria squadra solo con la forza del pensiero ma partiamo dal principio Simone Padoin nasce, si narra a Gemona del Friuli o Gemona, non lo so non ne ho la più pari di idea solitamente conosciuta come Nazareth il 18 marzo 1984 attualmente è il difensore più forte del pianeta milita nella Juventus fa parte insieme ad Escilio, Bonera e il Divino Jonathan dell'Olimpo dei migliori difensori viventi è tifoso sin da piccolo dell'Udinese che scute il suo potenziale over 9000 e lo prende nelle giovanili da sempre il suo idolo è Giuliano Giannichetta e sì, da piccoli tutti sono leggermente tonti infatti soltanto più tardi capirà che lui non ha idoli bensì sono gli altri ad avere lui come idolo frequenta il liceo scientifico Leonardo da Vinci di Bergamo dove si diploma nel 2003 ovviamente con ottimi voti ottenuti a occhi chiusi esploderà definitivamente come terzino della primavera dell'Atalanta terminerà la carriera primaverile nel 2003 dopo aver vinto una Coppa Italia primavera con l'Atalanta nel Vicenza nel senso che dall'Atalanta vince la Coppa Italia e poi si trasferisce al Vicenza e definisce la sua carriera primaverile avete capito no? comunque andiamo avanti esordisce così in Serie B dove colleziona 23 presenze ed un gol dimostrandosi un elemento molto prezioso trascorrerà 4 stagioni a Vicenza dal 2003 al 2007 dimostrandosi uno dei giocatori più importanti per Orrosa ma nonostante ciò non riuscirà mai a portare la squadra in Serie A a causa dell'incredibile cessezza generale nel 2007 così si trasferirà all'Atalanta dove il 16 marzo realizzerà addirittura una doppietta nella gara vinta 4-1 contro l'Empoli per poi ripetersi contro il Divorno trascorrerà anche all'Atalanta 4 stagioni fino al trasferimento che segnerà la sua definitiva consagrazione il 31 gennaio 2012 infatti Big Pado verrà trasferito alla Juventus qui avrà l'opportunità di scatenare tutto il suo potere e sordirà con la maglia bianconera l'8 febbraio 2012 durante la gara di Coppa Italia contro il Milan darà l'avvio all'azione che porterà il primo gol di Caceres qui alla Juventus darà libero sfogo alle sue potenzialità distruggendo tutti gli avversari e portando la squadra con la semplice applicazione della sua volontà alla conquista di 4 scuretti due supercoppe italiane una Coppa Italia e una finale di Champions League persa contro il Barcellona la sua opera più grande sarà il gol realizzato contro l'Atalanta il 5 maggio 2014 durante la festa a Scuretto che permetterà alla vecchia signora di firmare un record di punti storico in campionato ben 102 però perché la vecchia signora ha perso nonostante la presenza di Padoin la Champions League? beh è semplice Padoin venne rapito ed inchiuso negli spogliatoi nel bagno degli spogliatoi dove nessuno poteva vederlo Ibrahimovic descriverà la grandezza del Magico Pado con la seguente frase se non avessi visto Padoin giocare non sarei diventato il più forte calciatore svedese di tutti i tempi e state un vero maestro di vita bene ragazzi spero che questo appuntamento su Padoin vi sia piaciuto mi raccomando se volete altri appuntamenti di Football History lasciate tanti bei like consigliatemi nei commenti chi volete che sia il soggetto della prossima Football History qui da Vergence è tutto e alla prossima ciao ragazzi ciao Grazie a tutti.